Siamo interessati come avvocatura non solamente a svolgere quel ruolo di supporto all'attività dell'avvocatura distruttuale che è stato prezioso, fondamentale e sicuramente insostituibile. In questo la Regione Abruzzo sicuramente supporta il Ministero pur facendo comunque valere quelli che sono i profili di danno autonomi e specifici imputabili all'ente regione e sono stati individuati dal nostro legale patrocinante intanto nel pregiudizio alla salute delle collettività stanziate purtroppo su quel territorio così martoriato e così infelice e poi comunque un danno all'immagine inteso non semplicemente come una mancanza di fiducia degli amministrati nei confronti delle rappresentanti istituzionali ma soprattutto il danno all'immagine della Regione Abruzzo come Regione Verde d'Europa e quindi problemi connessi legati alla contrazione dell'offerta turistica che purtroppo la Regione ha subito in conseguenza di questo disastro ambientale e anche all'attività di esportazione e di promozione di marketing dei prodotti regionali tipici diciamo regionali di quella zona in maniera particolare ma non si è puntualizzato in sede di audizione solamente questo profilo perché ovviamente è giusto che chi ha sbagliato in passato paghi l'interesse però mi sembra di aver visto della Commissione è quella di individuare intanto di conoscere bene lo stato dei luoghi la perimetrazione effettiva delle aree interessate da questo disastro per capire quelli che sono effettivamente i margini di intervento in termini di competenze normativamente ascritte alla Regione e dall'altro nel rinvenimento di risorse necessarie che possono essere legate all'utilizzo di risorse magari già programmate nel masterplan o comunque altre risorse a cui si attingerà ovviamente con la necessaria collaborazione degli enti ministeriali per bonificare il sito in vista anche di un suo recupero all'attività Grazie a tutti